Grazie all'allestimento in tempo record di 17 gazebo all'esterno del mercato coperto di Via dei Bastioni a Pescara, i commercianti e frutti vendoli sfrattati dalla struttura per motivi igienico-sanitari hanno potuto riprendere oggi la loro attività. Beh, oggi è il primo giorno, vediamo come sarà. Sicuramente il Comune si è adoperato per farci allestire qualcosa qui fuori, non sarà la stessa cosa di dentro, qualcosa dovremmo pur fare. Pur e con enormi disagi dunque, l'attività è stata riavviata in attesa del completamento delle operazioni necessarie per la riapertura della struttura, dopo la chiusura, lo ricordiamo, imposta dai carabinieri del NAS durante un controllo. La questione della chiusura del mercato di Via dei Bastioni aveva scatenato polemiche e critiche soprattutto da parte delle associazioni di categoria che hanno parlato di un grave danno per i residenti della zona e per l'intera città. Termini di incassi parecchio, anche perché siamo stati una settimana senza poter lavorare di nessuna maniera e quindi dovremmo un attimo raccorciarci le maniche per ripartire. Mauro, c'è voglia di tornare alla normalità? Sicuramente sì, sicuramente sì. E tra i tanti clienti che troviamo qui al mercato coperto di Via dei Bastioni, il professor Quintino Marcella, noto per purtroppo la tragedia di Rigopiano, però in quest'oggi parliamo di questo mercato, un simbolo di questo quartiere, è venuto a comprare queste splendide ciliegie, questi splendidi duroni. Certo, io da una vita vengo in questo mercato, prima perché insegno in questa zona, ma perché poi è storico. Io mi trovo in questo posto da più di vent'anni, quindi conosco tutti i meandri di questo ambiente. E rimanere qui, sinceramente, è deliterio. Io penso che una sistemazione ottimale si dovrebbe trovare prima possibile. Nei giorni scorsi, la visita nel fabbricato, interessato dai lavori di sanificazione e derattizzazione, da parte del neosindaco di Vescara Carlo Masci, che ha assicurato tempi brevi per la riapertura del mercato. Speriamo che siano quelli tempi. Sicuramente il sindaco il giorno dopo la sua elezione si è presentato qui, non a fare la passerella come hanno fatto spesso in parecchi prima delle elezioni, vediamo se si adopererà al meglio, credo proprio di sì. Speriamo.